E rieccoci live! Buonasera a tutti! Stasera andremo a commentare la parte di Matteo Bennati vs Daniela Ravizza Comment, cabina, commento, off Federico Valenza e tra poco ci rinungerà anche Chiara Ciao a tutti! Ciao ragazzi! Eccola! Da lontano che urla! Segniamo i ragazzi che possono partire Intanto, nel mentre, mentre come al solito io andrò a spammare l'evento Lasceremo Federico spiegare le liste Sì, ho un problema che non riesco a vedere Però vabbè, inizio a guardarle No, non sono riuscito a... Ci ha messo in onda il tuo stream a qualità video e audio ridotta C'è, 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 c'è Se vai su Discord ci sei Vedi? Vabbè, me lo vado a provare Vabbè, non importa Intanto andiamo a farci una carrellata delle liste Ogni lista che andiamo a incontrare in questo torneo è sempre più bella Sono una più bella dell'altra E andiamo anche a presentare i giocatori Partiamo dal Super Ravizza Giocatore di lunghissimo corso genovese Giocatore molto abile Sempre stato giocatore imperiale E gli piacciono molto le liste a quattro navi Infatti questa è una lista proprio nel suo stile Andiamo a vederla nel dettaglio Allora, Fifth Brother Quindi Quinto Fratello Con classica configurazione con Yoming E Fire Control System Quindi dopo aver fatto un danno Dopo aver colpito Può spendere due forze per raggiungere un critico Si sposa molto bene con Yoming L'abbiamo visto tante volte E il Fire Control System Per permettergli di mantenere quindi Il bersaglio agganciato E poter ripetere la combinazione Più volte possibile Gideon Ask Con Predatore Gideon Ask Lui ha già la prima area thread Quando attacca contro un nemico Che è già stato dannemeggiato Può tirare un Un dado di attacco in più Predatore Per ripetere nel Nel Bullseye Terza nave della formazione Cosa abbiamo qua? Pursback Pursback Se non ha subito uno o più Dani Dani anche lui Può tirare il quarto dado in attacco Sempre con Predatore Scudino in più Per dargli un po' più di solidità Visto che lui avrebbe solamente Quattro scafi di base E poi il maggiore Rimmer Che per chi non lo conoscesse Quando fa degli attacchi Per i torpedo Per i missili Può aumentare O ridurre Il range Dell'attacco stesso Fino a 0 O fino a 3 al massimo Come Tuo torpedo Monta gli advance Proton Torpedos Che quindi Potrà sparare Anche range 2 Ricordiamo che sono 5 dadi Nell'attacco frontale E poi Ai cluster Quindi Credo che li abbia messi Nel caso in cui Dovesse incontrare Gli sciami Per poter Fare un doppio attacco I cluster Quindi avrebbero Gittata 1 o 2 Li potrà sparare Anche fino a 3 Intimidation Perché potrebbe Addirittura Sparare A contatto di Basetta Riducendo quindi L'agilità Dell'avversario Di 1 Una formazione Che a me piace Molto Perché Se usata correttamente Può davvero Davvero Ha un potere offensivo Veramente notevole Perché con Almeno 2 navi Potrebbe potenzialmente Sparare 4 attacchi Di primaria Dall'altra parte Il Buon Benna Giocatore che tutti Conosciamo Dall'immensa esperienza Un immenso Conoscitore Degli scam Una lista Che Che a me Anche in questo caso Piace molto Perché Porta delle navi Veramente Veramente Intriganti Tra cui Asage Ketsu Che i lancer E poi E' una nave Veramente Fantastica E E poi Porta All Terok Sul Fang Su All Terok Monta Semplicemente Fearless Ricordiamo che Fearless Terok Ha iniziato La fase Di ingaggio Se si trova Può scegliere Una nave Nemica A range 0-1 Da lui E fargli Perdere Tutti i segnalini Verdi Fearless Se si trova A range 1 Mentre Effettua Un attacco Nell'arco frontale Della nave Nemica Può trasformare Un colpito Un risultato Un risultato Un risultato Incolpito Scusate Sono diventando Dislessico Mentre Invece Asage All'inizio Della fase Di ingaggio Come potere Di nave Può Scegliere Una nave Range 0-2 Nel suo Arco Mobile Ricordiamo Che lei Sia Un arco Fisso Che un Arco Mobile Può Spendere Una forza E far Guadagnare Uno stress Alla nave Nemica A meno Che non Scarti Un segnalino Verde Come Miglioria Solo Odio Quindi Ogni volta Che prende Uno più Danni Recupera Quel numero Di forze A me Diciamo così È un upgrade Che non piace In generale Perché non mi piacciono Quegli upgrade Che ti fanno fare cose Prendendo danno Però avendo Tanti scafi Su Asage In realtà Può risultare Molto funzionale Poi Ultima nave Abbiamo Ketsu Che ricordiamo Essere un PS5 Come abilità di nave All'inizio della fase Di ingaggio Può scegliere Una nave nemica Range 0-1 Che si trovi All'interno Sia dell'arco frontale Che l'arco mobile Per dargli Un tractor token Il titolo Shadowcaster Dopo aver fatto Un attacco Che ha colpito Se La nave Targettata Si trova Sia all'interno Dell'arco mobile Che Che fisso Frontale Gli può dare Un secondo Target Tractor Non riesco a parlare Scusate Oggi E Niente Credo di aver Emozionato Poverino C'è Chiara con noi Eriassi emozionato Ti fido Esatto 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 Tanto qua Parliamo Parliamo Ma tanto Il Ben A parte Fortissimo Con Scusate Non so se ho Ficciato giusto Con Ce la posso fare No questa Ok Con Asaj Che prende Target lock Su Pur sabac Ha un pelo Da tre Pur sabac E pur sabac E pur sabac E pur sabac Pur sabac Pur sabac E pur sabac E infatti Appunto Tanto salutiamo Davide Possenti Chiede se abbiamo Il premio fedeltà Per la sua presenza Se presenzi A tutte le live Ti faremo dare un bacino Sul Dove vuoi tu Da Una persona Che sta ridendo Ed è Federico Sì La rima era Obbia Comunque Vito Mazzotti Che dice Per una volta Che scrivo Prima Siete in anticipo Eh sì Salutiamo Ichimaru E Danny Provenzano Lo salutiamo Grande Danny Ciao ragazzi Seguite sempre Matti Io continuo A non vederla Però su Discord Sai Te la tolgo Ma io posso Promettare anche Alla cecca Tanto oggi Ragazzi Che spocchia Adesso Provo a rimetterlo Sei tutti testimoni Che Federico È spocchioso Ecco L'ho rimessa La vedi Non la sai Non la sai mandare bene Tu Mattia Lo so È sempre colpa mia Esatto Adesso arriva Il mio compito Vuoi di intrattenere Tu compito Ecco brava Tappa i buchi Un po' come Tappa i buchi Aspetta Non so Bravo Vito Hai ragione Comunque io oggi Ho diritto di parola Perché ho preso 26 di marketing Volevo comunicarla Tutto il mondo intero Grande E 30 di diritto Ciao ciao Quindi diritto di parola Se volete vi posso ripetere La nuova lezione Di sociologia Di processi culturali Comunicativi Oppure vi posso raccontare Di database Stavamo dicendo Abbiamo Chezzuoni Rosso Ho reinvertito Pensando di aver sbagliato Invece ho fatto giusto Comunque io ho giocato Chezzu Vero Federico Una volta Che forte Ho giocato Chezzu Turani E non mi ricordo Non spoilerare Quelle cose Scusate ragazzi In chat Ma ho Chiara Nella cabina commento E c'è casino qua Cioè quindi sto sbagliando Tantissimo È colpa di Chiara Che mette mani ovunque In cabina commento Allora Aspetta che me la Anche di qua Allora Io mentre parlavo Alla cieca Non avevo visto Lo schieramento Quindi Abbiamo avuto Abbiamo avuto Un Kets Sotto Mi è tutto Molto più chiaro Sì abbiamo un Ketsu E Nasaj Molto compatto In alto Con un Oltero A metà Guardando l'alto E dall'altra parte Invece Daniele Cerca un po' Di avvolgere E chiudere Più avanti Nel prossimo Turno L'avversario Con Un Pursabak Accanto A Ketsu E Asaj Un Major Reamer A centrale Bene bene In centro In centro In centro Un quinto fratello Che si fa i cazzi suoi Tecnicismi E Gideon Aska Che guarderà Al basso Verso l'alto Tutti gli altri Ma devo dire La verità Sono proprio curioso Perché Le navi Le navi Di Daniele Possono veramente Fare dei fuochi Delle fasi di fuoco Intense Ma Vito Si è sbagliato Scusate Perché Vito ha detto Potrei fare Stazzita chiara Sì Chiara Quando hai imparato Di esami universitari Hanno Quinto 457 Tante persone Facciamo parlare Federico Allora Ma questa voce sexy Che Super sfadente Ti ha Ti ha preso Ti ha preso così Conquistata subito Subito Ehi ciao Vuoi vedere il mio Ketsu Ti ha detto così E io ho capito Tutta un'altra cosa Ti è andata male Pensa Di Di poter giocare Quella sera Pensavo di poterti divertire Quella sera Invece Ti ha fatto vedere le navette Era un problema grosso Di solito funziona Vuoi venire a vedere La mia collezione Di farfalle Invece Adesso vi racconto La scena Lui li fa lei Vuoi vedere il mio Ketsu Lei capisce male Va a casa Di lui Lui le mostra La navetta Dello shadowcaster Lei ovviamente Le piace un sat Con lo shadowcaster Però poi ho pensato Vabbè dai Se mi ha chiesto Roba leggenda Sicuramente la 104 Posso ereditare forte Giusto È andata così Uguale Immaginato Che la scena è identica Intanto Parlando del gioco Dica Stavo dicendo Ah perché si commentano il gioco Stavo dicendo Che Che con tutti Quei tractor lì E tutte queste navi piccole Possono succedere cose Sì no Sì 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 I sassi non sono così Compatti l'un con l'altro Quindi sarà un po' più difficile Confronto a un Un'isposizione molto compatta E sono tutti sassi piccoli Quindi Eh ma il lancio Ci devono passare Daniele può anche evitarsela Volendo Se lo gioca bene Daniele Può evitarseli Va che sexy Pur sabac Che guarda il sasso Il sasso guarda pur sabac Si muove attraverso il sasso E niente Figlia nel culo Perché ha fatto questa cosa È perché ha fatto il pre-boost E è andata male Non ha Non è l'occhio Ricordiamo che Ricordiamo Vi comunico che Daniele Ravizza Credo non giochi ETS Mai Tipo Ha fatto un torneo Con due tornei E basta Cioè non ha molto l'occhio Di quello che ti ti è Ah quindi lui era un amico Dei sassi Sì Sassolover Ok Un sacco di amici Dei tassi Sostituti TTS Veramente Continuo a fare liste Dove non sono mica dei sassi Quindi non Dira un po' Mattia Bisogna giocare Con i separatisti Vai sui sassi Stai fermo lì Sei tranquilla Che bello Mi cago sui sassi Ed è andata Tutta la partita così Tanto Daniele che va Super a caccia Di Teroc È vecchio È che Io l'ho usato tantissimo Teroc E Un Highlander Poi a un certo punto Prendi quel fuoco A range 2 E niente Evapora Ha questo vizio Pensate che Federico Prima di giocare Teroc Aveva i capelli Poi giocando Teroc Li ha persi tutti Don't try Visit home Dicono Teroc Va su 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 E poi Boosta giù 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 Ma si non tri Si porta Il target lock Dato gli Da Da rima Che bello Questo Bump di Ketsu Che dice Guarda che bello Che spursa Buckley A distanza 2 Un peccato Per questo Preboost E questo Uno secca Che Sì Io Esatto Non Proprio così Ketsu va Sul Sul target Sull'occhio Eh Tre dadi Primo fuoco Con un colpito Con un colpito E due blank Niente modifiche Per Ketsu Parte Pur Sabac Che tira Un Neveid E meno male Perché se no Gli attaccava subito Il tractor No 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 Niente tanto qua Rimer Non sparerà Intanto Vito ci dice Dalla chat Qua Dobbiamo fare una domanda Chiara Se Vito ha ragione E Chi dice che Fede non ha capelli Perché ha livelli Testosterone Che neppure Mister Olimpia Chiara dici Fede ha acquisito Testosterone Soprattutto quando gioco Ketsu Quando gioco con Ketsu È una bomba Quindi va Chiara sia vale Dalla facoltà Di non rispondere Ok perfetto Il quinto emendamento In America Sì In Italia Non so neanche se esiste Se c'è qualche Avvocato in sala Ci può comunicare Se esiste una roba simile Al quinto emendamento E quinto emendamento Americano Bisogna rispettare La dignità del proprio uomo Fare comandamento Detto così Vuol dire che Non c'è testosterone Scusami Stai pigiorando La situazione Non ti invitiamo più A commentare No ma per me Può tornare Non è un problema No Bene 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 Un'ora alla fine Intanto Daniele Sa quasi Cosa mettere Ma sono veramente Sono veramente Dispiaciuto Per questo Per questo Questo sasso Tiro mancino Esatto Preso così Era more impossibile Quello che chiedevi Tiro mancino Vito Mazzotti Dice Il mio avvocato Malese Dice che non c'è Citazione 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 Dell'XTC Per chi Se lo fosse perso Andrassi a ritrovare Le partite All'interno Dei giochi corsari Nella La playlist XTC Andando a cercare I malesi I fratelli Wong Salutiamo Toki Uno più forte Dell'altro Porca Eva Sì 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 Pensa che Ci ha chiamato GV Games Workshop Che li vuole far giocare Anche a Warhammer Adesso Sì sì Troppo forti Facciamogli smettere A giocare A X-Wing E li vogliamo In Warhammer Vediamo Vediamo Cosa ha in mente Il buon Ravizza Con tutti i SAC C'è solo Benna Che è un po' Bloccato Sulla scelta Di Asage Secondo me Non ha Molta scelta Comunque Vengono tutte Da quel lato lì O fa una Uno Il problema Secondo me Non è tanto Cosa fare con Asage Ma con Ketsu Quindi Sta cercando Di Non intralciarsi I piedi Però due Navi grandi Così in un fazzoletto È normale che Però magari potrebbe Fare una Uno Bank Con O addirittura Una due Tarn A sinistra Con Con Asage E una Cinque Coglio Con Ketsu Io farei qualcosa Del genere Per poi rientrare Perché comunque Lui È forte Quando Quando arriva Frontalmente Con entrambe Sì Non è Un schercio Sassi In qualcosa Eh Comunque Dani È pazzesco Perché Daniele È cominciato a giocare Quando è uscito X-Wing Se non ricordo male Con uscito Set base Quindi è un giocatore Di lunga data E allo stile Vecchio stile genovese Ciò vuol dire Picchio forte Picchio duro Vito ci comunica Il fatto che I Wong Sono presenti Ad un torneo Di Warhammer Con Ketsu Asage Salutiamo Filippo Sempre lucidi Tanto tocchi Dice Era l'arco Ma raga Le altre navi Hanno capito Che devono andare Contro Quelle due grosse Per abbatterle O stanno Stanno rigando Nello spazio Daniele Sta giocando Un altro gioco Lui schiva Gli asteroidi Ha girato L'arco Ho visto bene Ha girato l'arco In alto Guardando Ketsu Quindi Vuole prendere Pur Sabak Che lo prenderà Ovviamente Perché ha fatto Una Un pre-boost E una secca Per andare In fuoco Diretto Verso Asage Tanto tocchi Dice Araviza Piace il numero 4 4 pezzi Per ps4 O 4 O 5 Dadi rossi Quindi Comunque Non è messo male Perché Pur Sabak In questo caso Qua Ha il Reroll Dato gli Da Predatore E tira Quattro Dali Guardalo Che sexy Quando fa Barro Che brutta Cosa Come danza Tanto vediamo Un po' di zoom Che non fai male Nella vita Vedete che Non dovrebbe Eh ma non ha calcolato Che ora Prenderà un tractor Ma oddio Se fa la coio E poi magari Si è infilato lì nel buco Che zue Allora Che su e allora gli ha avuto ragione Bella La rischiata Comunque C'è Per la sal C'è sempre Scusatemi un secondo Scusate Per la sal C'è sempre davanti a sé Rimer Volendo Quanta cattività Da parte di Araviza Contro questi Poveri shadowcaster Cerca di chiuderli Fortissimo Anche Giden Husk Si botta Tutti nel mischione Tanto non possono Sparare a tutti Il concetto è quello Siete circondati Uscite i bracci Mollate cioccavete Tanto quella Naviga Curioso di vedere Benna come Ah no Fregato da Un po' Sabak Però c'è C'è Terok Che si avvicina Sabak Che dice Bello Mod È il problema Che Il problema Che adesso Va sul sasso Eh sì Per quello Ti dico Che non avrei Fatto Quel bar Rol Vedi Lo senti Dice Ma il quinto Armano Gioca Eh sì Tratturizzandolo Si Pensa che me lo sono chiesto pure io Vito No anzi scusa Davide Ma non confondiamo Possenti con Mazzotti No assolutamente Vito con Davide Gio persone distintissime Poi tu le conosci personalmente Se ne vescole assieme giusto Sì certo Grandi compagni di gioco E quindi E quindi E quindi La sua tractor Su Pur Sabak On the rock Ma di queste navi Chi è che può sparare Avanti e dietro O di fianco Quelle grosse Quelle grosse D'anti e dietro In base a come Quelle grosse hanno L'arco davanti frontale L'arco davanti Quello classico Intanto tira dado Per subire un danno Plus Sabak Dato lì dal sasso Ancora un danno E viene smezzato E regalerebbe 25 punti In più Queste navi grandi Hanno la possibilità Di poter sparare In un altro arco Che quello mobile Da un altro Dei lati Può essere centrale Laterale Dietro Ha un dado in meno Ma se hanno L'arco 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 principale L'arco mobile Assieme Fanno cose Te la vendo facile Intanto Niente È andata male Perché Perché è andata male Ha provato a sparare Con Ketsu Ma non avendo modifica Ha fatto due occhi E nulla di fatto Questo è un range 3 Non so se è ostruito Eh direi di sì Data la lineetta È ostruito Quindi fa Un colpito critico Solo due Ne tira No Ha tirato un altro Che è andato via Fuori dalla nostra Visuale È un peccato Perché Si è Si è totalmente È fuori forma È fuori forma Fu a lick Bacchettrice Siesta Vito Mazzotti Davide Quello bravo Con X-Wing Tocchi Rinomato Pur Sabac Pur Sabac Sparac Sparasagio Che fa un colpito Ma L'avversario Fa un bel Leveid Tranquillo Rilassato Ora tocca Ips4 Vediamo cosa vede Rimer Solo Il vecchio Che il vecchio Ha un target su di sé Che è quello di Rimer Direi che sparerà il missile Signor Rimer Si Un bel cluster Che parte Fa due colpiti Bursabac Difende Con Colpito Evade Occhio Direi che potrà Spendere l'occhio Visto che Non dovrà più attaccare E però c'è anche L'attacco forse Di Gideon Che forse Ce l'ha nel bullseye Invece no Ne frega una sega Alben Bullseye pieno Si Ricordiamo che Gideon A predatore Quindi tira tre dadi Rinerolla uno Ma non gli serve Perché ha occhio E fa tre colpiti Grazie al cambio Dei dati Con l'occhio Ah Che male Che esplode quasi Mamma mia Tre dentro Sul vecchio Terok Ma te l'ho detto Terok è così Porca miseria 30 punti per ravizza 25 per ben nati Il quinto Fratello non vede nessuno Quindi si parte Del prossimo turno Per usare una citazione Che bot Chi vu preso Che god Vostante dice Figo Rimmer Con quel setup Si è carino Molto carino Molto bello Si Poi versatile Va bene Io Rimmer Quando giocavo in Imperial Giocavo tantissimo Mi piaceva tantissimo Dove era Domanda tecnica Il pre-boost Non lo può fare Sul sasso Si si Perché no Si 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 Che domanda stupida No Eh Nel cazzo chiedi No Chiara Spiegagli un po' Come si gioca Per favore No ma infatti Si ma Siamo comunque Siamo comunque Su un canale Youtube Pregherei la nostra Compagna di commento Di usare comunque Un linguaggio Un po' più adeguato No Senza Parolacce Queste cose qui Allora C'è Metà Dei contenuti Che faccio io Più di metà Dei contenuti Che faccio io Abbiamo fatto Delle partite Di gameplay Io e Ambro Direi giochi E' uscita una Ieri E' uscita Ho tirato due Non fortissimo Però diciamo che Il portuale Era forte in me Allora puoi dire Cosa vuoi Sì No no va bene Va bene Va bene Mi devo preparare Per le prossime Due tre ore E non sono permalosa No no Lo sappiamo Hai capito questo Ah poi puoi dire Come dico io Io non sono una persona Vendicativa Ho solo Gran memoria Esatto Me lo scrivo Tutto Ricordo sempre Tutto E' certo Facciamo un po' Recappare Questo turno Questo turno è andato così Abbiamo preso Un Prussabak Che Sto portando Punti vita Con un Fuellic Sopra di sé Quindi regalando 25 punti All'avversario Dall'altra parte Bennati Ha quasi perso Tero Lasciandolo A un punto vita Regalando All'avversario 30 punti Quindi c'è un vantaggio Di 5 punti Netti Per Ravizza Questo turno Sarà Un turno in cui Dovrebbe entrare in fuoco Anche il quinto fratello Sì E magari Esatto Lo Stryker Potrebbe un attimo Prendere una boccata D'aria Ma Tira il sasto Col pre-boost Passando sopra Essendo un Pre-boost Conta come movimento Conta come movimento Può farlo Sesso l'azione Se la domanda è quella Può farlo Sesso l'azione No ma Tira anche il dado Il dado lo tira a prescindere Però l'azione poi può farlo Ok Ma il quinto fratello È quello che È fuori dai giochi È quello che si è infatti Suo Sì Il fratello grande Quello è escluso È il fratello grande Ha visto che gli altri Vengono picchiati Quindi arriva È un po' come Al campezzo Arriva Esatto Sei al campezzo Sei lì Esatto E ora Arrivano il fratello Te la vedi con loro È il quinto fratello Questo Quindi sono Cazzi Della serie Ci vediamo fuori Dopo la campanella Si tocchia una manovra Direi che Tutti Sommessi Escluso Quello del vecchio Terok Che è lì Un po' indeciso Però comunque Anche se Pur sabac È rimasto lì Un po' Sasso contro Sasso non Sasso Ed è comunque Rimasto vivo Per sua fortuna Ha bloccato Molto gioco In quell'area Quindi ha fatto in modo Che arrivassero bene Gli altri Cioè Nella sfida Ha gesto bene La partita Non so se Sto fatto apposta Non credo così tanto Ma non so se Sto fatto apposta No Infatti io Ti dico Con Con Benna Francamente Avrei fatto comunque Una 5 Coyo Con Con Ketsu Perché comunque Saresti Andato a prenderlo Lo striker Magari Non l'avresti Trattorizzato Dall'inizio Fase In gaggio Ma Con il fuoco Fatto Perché Se lui Non avesse Fatto il bar Ma fosse Rimasto fermo Non l'avrebbe Messo sul sasso E gli avrebbe Fatto tirare Comunque 4 dadi Poi su Su Asage Quindi Lì è andata Tra virgolette È andata bene Che Daniele Ha fatto Il bar E poi comunque C'è che più Pio C'è che lo coio Coio Ovviamente Ovviamente Direi che ci siamo Cosa ne pensa Lei Chiara Eh infatti Di quest'ultima Ciò che più Pio Ciò che coio Coio Lo dovrei dire Non lo so No io sto No io sto guardando Sempre il quinto fratello Che è scuso Dai giochi Ci sei rimasta male Sì Parecchio Ma proprio perché Non è Quello di arrencio Qualsiasi cosa Pure la roccia Tra poco E la fuori Dei sui reggi Stai empatizzando Con lui Essendo più grande È il quinto fratello E non lo fan Giocare con loro Allora lui è rimasto Intanto Il buon Asage Prende occhio Tiene l'arco Sempre in alto Gideon Bampa Anche Riemer Bampa Aia che male Che male di Brack Bampa Eh sì Perché adesso Scomba Intimidation È una trappola Dice Vito È una trappola È una trappola Dado per Pur Sabak Che fa un black Per sua fortuna Terok Andrà a prendere Sabak Bella domanda Sabak Occhia 5 dritta Per il fratello Che entra A gamba Tesa Un bel target Su Su Terok Scusate Quanto hanno di vita Di scafi Scudi Quelle due grosse Hanno Due sca Due Otto scafi Due scudi Otto scafi Su belle paciocche Sì E sono anche tra l'altro Integra Perché non mi sembra Che abbiamo ricevuto da Sono persone integre Sasso per il Ben Oggi è il sasso Rimane anche sopra Che brutta questa È il buon È maledetto quel sasso È fuori dai giochi La Pigeo La Pigeo Che tradotto vuol dire Chiara Spieghiamo al pubblico A casa L'ha preso È nella Bratta Vuol dire È nella Bratta Vuol dire che si fa Non si è fatto male Fino adesso Si fa male con il sasso Ma a voi sembra normale Ha già tirato il dado Non si è fatto male Non si è fatto male Non si è fatto la bura Non fa azione Non fa azione Non può sparare però Poretto Ha fatto un po' come te con la macchina Chiara La fiancata Ecco Quindi stai entrando nel cliché Che donne non sanno guidare Occhio eh No 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 Ok Stavo pensando alla casta Creazione di un uomo Quando la donna Prende la macchina Amore ho fatto un incidente E la macchina Ce ne frega un cazzo Terok barra l'occhio Con stress Associato grazie al concatenato Spara Terok su Suo fratello Tira Tira bene Tira Due colpiti e un critico Il fratello difende Con doppio vade Quindi prende un danno Perde uno scudo Mi ne frega una sega Basta un danno per smezzarlo E regalare altri 26 punti All'avversario Perché? Dipende due Mamma Ah perché sdoppia il danno Ah c'è sì Sdoppia No 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 Ha preso il doppio danno Il critico No No ma era uno scudo Eeeh No C'era Fearless? No non è uno Fearless comunque Si è fatto duro A parte che comunque Aggiunge un colpito Non è che Questo chi è? Gideon Tre dentro Vabbè Eh Muore Se lo porta via E c'è un danno di troppo Eh io ho visto come hanno messo loro Loro sapranno Sempre due sono d'accordo Non so se dalla chat vogliono Dire qualcosa Parte il fratello su Ciao Su Kezu Doppio occhio Mi spende una Tanto Pier Dice se va bene va bene Se no Amen Niente Quindi siamo due contro quattro Ma qua sono uno contro quattro C'è intimidation Sì sì però Dicevo Sono rimaste Due navi contro quattro navi Sì due navi contro quattro Eh no però ragazzi Ben ha Tirato due dadi qua Io gli entrerei Gli direi questa cosa Perché Vai tu vai tu Vai tu vai Vai Fede Dov'è che sono loro Aspetta Al tavolo X Al tavolo X Al tavolo Ti diri anche del danno Eh Ti sposto io Aspetta L'abbiamo perso L'ho spostato L'ho sposto al loro tavolo Bravo Oh come si queta Mamma mia Ora puoi dire ciò che vuoi Non c'è il tuo consorte Posso dire una parolaccia A caso Non scherzo raga No no Non sia mai che turbo Qualche animo Ah facciamo così Se vi scrivete L'olifans di Chiara Puoi dire le parolacce Che volete A comando Quando volete voi A comando Vi fa un video Vi fa una nota vocale Ciò che volete Ce la fa Federico A parlare con loro E staranno Da raccontare La sua vita Nell'ottano 82 Esatto Ma quindi C'è Quale potrebbe essere La sua strategia Per quanto riguarda Le quattro Che numericamente Sono superiori A quelle di Matteo Però comunque Hanno anche meno vita Perché gli scudi Le ha persi Due almeno Giusto Sì Bacchetta Stiamo Abbiamo andato Scusa un secondo Abbiamo andato Fede a parlare Con i ragazzi Così almeno Vediamo di risolvere Il dado in più Di 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 Asaj E si è subito Un anno in più Quinto fratello Non mi ha capito Perché E sì No L'idea Adesso È Dei quattro È cercare Di Perdono Cercare di Poi scegliere Un bersaglio E romperlo Perché sono Molto aggressive Come nave Come navi Ok Intanto Brunero dice Chezzo di Buddha Viene considerato Come parolaccia Diregli no Un cazzo di Buddha Un cazzo di Buddha Chiara OnlyFans Che spiega L'approccio Holistico Di Dattavis Dici Federico Perché no Scusatemi Mi è cresciuto Tutto Non sono riuscito Niente a entrare Di là Come sei riuscito Aspetta L'ho rimandato L'ho rimandato Chezzo Aveva intimidation Su di sé Eh sì Ce lo siamo dimenticati Ok E poi scusatemi Perché Ho anche perso Due scudi Il quinto fratello Mi sono preso un danno Perché ha preso Due scusi Di Tero C'era un altro Blank qui Ok scusatemi Ok d'accordo Grazie mille Te lo ritiro Il dado Aspetta No no easy Vabbè come volete voi Buona partita No 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 Figurati Dimenticato Dimenticato Scusa Non ci ho proprio ripensato No easy easy Abbiamo dimostrato Che Mi è dimostrato Che Valenza È un signore Perché se era dimenticato Il dado Dell'intimidation Se ne sono stati E la vizza fa Beh ho dimenticato Dimenticato Invece Per il quinto fratello C'era Un blank Non abbiamo visto E quindi il dado È entrato dentro Quindi tutto a posto Dopo senti dice Federico Judge Dread Sì Judge Dread Che è al buio E non trova nessuno No infatti Ma no Perché mi è Mi è caduto tutto Mentre Mentre provavo a entrare di là Poi non sapevo i nick Quindi non li trovavo Allora ho detto Sai che c'è Ma te l'ho spostato Io te l'ho spostato Eh no Perché come tu mi hai spostato In realtà io dovevo avere avuto Un problema di connessione Sono uscito da discord Ok Quindi Niente Ricognividimi Ma Met la Oh memmi Oh memmi Ma devi fare tutto tu Matti Sì ma non so cosa dirti Ma non so cosa dirti Spero non sia così Nel privato Sarà un disastro Intanto Asaj Ventress Si mette sul lato Destro del campo Alla nostra destra Per poi Guardare Con la torretta Al centro Quindi comunque Copre Il La zona centrale Gidenask Si butta sul centrale Major Rimmer Va avanti Evitando il fuoco Di Ketsu No di Asaj Pardon Mi raccomando Perché siamo in un canale Professionale Non si possono fare sbagli Guarda Dico una male di cazzate E sabac Bampa Su Su Asaj Ricordatevi che il nostro motto È chi sa giocare Gioca Chi non sa giocare Commenta Io non so sicuramente E Chiara Ne è l'esempio Lampante Io comunque La maglia Non l'ho ancora ricevuta È l'aspetto Vuoi la maglia? Ti faremo avere la maglia Eh Va bene Ufficialmente nel team Cioè devi farmi La maglia Bratta Però vabbè Fa lo stesso Vuoi dietro scritto Bratta? Eh davanti Bratta Oppure dietro Bratta Davanti Chi non gioca Commenta Chi non sa giocare Commenta Giusto? Chi sa giocare Gioca Chi non sa giocare Commenta Sì Va bene Perfetto Brunero dice Alla prossima volta Arrivo io in cabina Va bene Brunero Vito segnala La partita tra gentiluomini Sì sono Sono molto serio Anche Ravizza È fin troppo fair play A volte è perso partita Che poteva anche evitarsi Di perdere Nel suo trascorso Torneistico Ma Dani è troppo Troppo signore Troppo Troppo Trovo bravo Parte Asaj Contro Gideon Il quale è full Due dadi così E due vade Intanto Vito Vito dice Mio marito L'avanti di tutti quanti Citazione Intanto il fratello Guarda che è arrivato Eh sì L'ho appoggiato La campanella E ha deciso di appoggiarlo Sì Ma dov'è il fratello? Ah ok In alto a sinistra Le roll Ma nulla Spende forza Per modificare il dado Asaj Scusatemi Ketsu ha comunque un evade Quindi fa doppio evade Grazie al token Perché gli ha tolto il Ha fatto evade blank E col token Ha fatto doppio evade No ma gli ha tolto Un target Perché ha ritirato un dado Ma non ha FCS Vabbè Tra dentro Due per S Via gli scudi Per Ketsu Ketsu nudo Quindi ha perso Gli scudi Su entrambi No Ah sì Scusatemi Ma le due navone È giusto che stiano vicine Perché Cioè Oltre che farsi compagnia Si aiutano l'un l'altro Oppure Frega niente Sì Ha senso Perché poi puoi fare un fucking crociato Importante Eh Infatti Cosa stanno facendo E poi nello spazio fa freddo Se stai avvicino Hai più caldo Certo Quanto è broccio Prima sono andata a braccetto Adesso invece sono separata Eh sì Vedi E poi ha preso botte Eh Non avranno litigato Poverine Mi immagino Sempre il lato umano Delle navicelle Tanto c'è Cosa sono donne e uomini Vabbè A parte il fratello Uomo donna Un donna Anche cazzo È vero Cazzo donna Cazzo È cazzo donna È un casaggio È cazzo È cazzo ma non c'è il cazzo Che delusion Proprio Sì Bacchetta Non ha usato FCS Ha usato il target Perché se l'ha sicuramente svanito Gli tireremo le orecchie Sì 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 Comunque io voglio bene Dani Perché è uno del mio team Ma comunque Benna Voglio un sacco bene Quindi Non posso essere Di nessuna parte Stasera Bravo No Imparziale Ma Vito Che film guardi Ci fa una citazione con Nello spazio Nessuno Può sentirti urlare Però Ricollegandola Prima Mio marito Davanti Di tutti quanti Diciamo che È un po' ambiguo Nell'insieme Segnalatelo al target Eh no Se ha fatto una scelta Ha fatto una scelta Ha fatto una scelta Cos'è che è FCS apposta Che sarebbe chiara Come tu ben sai Dai F come fa 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 A me mi vengono sempre cose super Super volgari Fire Eh? Fire E C come con Como e Savona Fire Fire Como e Savona Ricordiamo che Savona È È In provincia di Como Sì Non c'è niente con la Liguria No Tanto Vito dice Spazio del porno Anni 80 Ad Alien Mi fa piacere Per l'elevata Cultura Di quest'uomo Intanto Vito dice FCS Famo cose strane Barrel per Il P P P P Pursabak Che cerca di evitare un po' il fuoco Ma non lo riusci ad evitare Direi Facciamo un zoomino carino Fire Control System Ho capito Cosa è la FCS Ragazzi Baby Che fa Ah Rimmer si gira E Gideon Se la sente fortissimo Peccato che va a infilarsi In mezzo a due asteroidi Sì Arrivando Chezio Ad appoggiargli Intanto Tocchi Ci tiene Che Diciate qualcosa A Dani Ci tiene Eh Fili non si può Non funziona così Non si può Filo Deve camminare con le sue gambe Bravo Sto contro i muri Intanto Tocchi dice FAP Control System Potrebbe anche Non vederlo Vediamo un attimo Lo zoom Se c'è di aiuto Mi direi di no Mi sa che lo vede Lo sai che forse no Scopriremo Presto Raga ma quella nave Sta andando Verso Infiniti Oltre Oppure Girata Se lo vede È un grossissimo Problema Per Daniele O ci sta a provare A un certo punto Ma intanto No Però lo deve fare Inizio a fase di ingaggio Con Con Chezzo Allora già Sì sì Non c'è Non c'è Non c'è Stress Grazie ad Asage Fuoco di Asage Su Su Ghideone Tre perette Quattro perette Perché è in primaria Ah è in primaria Quattro perette K del Caspio Mamma Licurdi Dicevano Ma chi di Non ha già preso danno? No Con l'occhio E prende un colpito Un critico Vediamo cosa viene fuori Damage Sensor Array Per fare Soluzione Oltre Mi potete Rassicurare Su una cosa? Dimmi Ma la nave Su 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 in cima Va a ver Cioè vuole uscire Dal cartellone Uccidersi Oppure Guarda gli altri Guarda giù Ah guarda in giù Ok Non è ancora arrivato Questo L'estremo saluto Dei suoi compari Non riuscivo a capire Il davanti Vediamo se si vendica Di mano Senza modificatori Un roll Tra dentro Difende Asaj Doppio evade Troppo forte La folla Invisibilio Ancora due danni Presi le smizzate Asaj Regalando poi 36 punti Nel caso Che sono Non sono tantissime Ma porterebbe in vantaggio Daniele Ravizza Oh wow 26 minuti alla fine 3 turni 2 turni 4 turni 2 turni 2 turni per tutti Si pronunciano quindi 2, 3, 4 turni Quindi adesso 2, 3, 4 12 anche a volte Dipende Per Daniele Adesso è buono Il fatto che Asaj Non si possa infilare Lì in mezzo Comunque muovendo prima E avendo quei due sassi lì Non ha tanti out Sì Questa è una cosa positiva Per lui Quindi può concentrarsi Su Kezu Che vale anche più punti E tra l'altro Convergendo da tre direzioni Diverse Può fare cose I cose Tutti i cose Tutte cose Ok 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 E chi sgancia Le bombette qua Nessuno Nessuno quelle per terra rossa quelle piccoline minuscolissime sono le forze sono le forze ah ok o gli stress sotto i tokenini loro ok però vedete come sono cambiata che sono molto più attenta prima non capivo un cavolo guardavo cose che si muovevano dadi lanciati cioè adesso comunque ho proprio un'altra visione della situa della situa cioè fra hai capito the vision of the game insomma wow ok per me 10 per me 10 eh però al target and measure il quale può avanzare fortissimo intanto mettiamo un attimo in grafica le manovre del bombardiere con la tre morbida la tre dritta va a stressarsi volendo ricordiamo che c'è sempre un chezzo inaguato però io me lo farei un bar barreroll con ghidone a destra quello che costa giorno d'oggi dici anche perché se no sei in fuoco pieno mostriamo in grafica fuoco e arriva il barreroll eh si e lo stress si è tolto lo stress poi si è rimesso e come azione cosa ha fatto barrer e perché l'ha preso di nuovo non so non posso starmi dietro non ce la posso fare ma si ma ti dilo un po' occupatene di tu Federico no stanno giocando ragazzi non si può interrompere le partite di le cose tu no no noi commentiamo pur parler proprio per pur parler boost col focus focus come dicono i francesi focus focus hai proprio perché hai giocato con un francese la scorsa settimana tu è stata veramente una bella partita Orelian è una persona veramente piacevole un buon giocatore poi vabbè ci siamo molto forte si si ha giocato molto bene poi è stata una partita che ci siamo giocati proprio sul Dalo perché lui giocava questa formazione con tre ala X e poi una Y con gli electro chaff e la nuova configurazione che gli dava addirittura due scudi in più cioè quindi era un pozzo senza fine di scafio e scudi io giocavo il mio Shammetorkin ce la siamo veramente ci siamo massacrati e alla fine è finita col tiro di dadi avevamo tutte e due le navi ridotte malissimo e niente lui ha avuto la meglio però è stata veramente una partita divertente e piacevole intanto ma ti raccontavi il chezzo si è messo proprio lì in mezzo a rompere il chezzo a rompere il chezzo quindi le scelte di target direi che sono ma però non ha però non ha nessuno per bellissimo però ricordiamo che è shadow cluster quindi se colpisse una nave a due può comunque trattorizzarla certo in questo caso pur sabac è a due quindi lo sceglie come target uh free in mi sa che non c'è bisogno ciao eppur sabac se ne va Federico comunque qua ti scrivono penso rivolto a te Davide Postanti dice ma Federico gioca la mia stessa lista e invece Ichimaru dice ma non aveva Damage Sensor Rai Gideon capito? eh sì è vero sì sono tutti molto stagli sì Davide io però non metto lo scudo ci ho messo le proton così per variare però non sono così non sono bravo io non sono bravo a pilotare gli sciami infatti ho voluto proprio portare uno sciamino per divertirmi un po' e poi non sapendo usare tanto TTS ho detto vado lì faccio un po' di confusione e vedo cosa succede che confusione Sara perché ti amo ti amo 5 dadi di Advance Proton a Rage 2 cosa è successo Mattia? horror roll 4 dentro occhio occhio vai 3 colpiti e un critico chi si è visto? si è visto 2 dentro hit crit 2 danni che è un Damage Sensor Rai anch'esso che forte 95 punti per Ravizza 101 punti rebennati si stanno rincorrendo per una manciata di punti di volta in volta parte il quinto fratello che va su Ketsu Onyo a distanza 1 contro i dadi gli fa doppio occhio far control eccolo lì tra dentro spende occhio uno dentro a Ketsu bastano 2 danni per essere anch'esso smizzato e dare altri 35 punti al suo avversario nonché Daniele Ravizza Ketsu è smizzata Asagi è smizzata Ketsu no si Asagi è gialla si ammazza ricordiamo che Ketsu ha 2 Ioni perché ha utilizzato Forlomb per non far utilizzare il token verde al suo avversario che poi è distrutto ok quindi non ha sparato tutto su ok pensavo che l'advance però tu l'avesse tirato a Ketsu invece l'ha tirato a Asagi no perché non aveva il target su Asagi aveva il target giusto giusto abbiamo comunque un bello mimissi sempre da utilizzare per il quinto fratello c'è Major Rimmer che ha ancora 3 cluster da far uso da cui far uso a Asagi bastano 5 danni per essere rotta regalando altri 36 punti a Ketsu no bastano 2 danni per regalare altri 35 dall'altra parte abbiamo un Gideon Ask che gli manca un danno per essere fuori dal gioco per poter regalare altri 25 punti e il quinto fratello che bastano altri 2 danni per regalare altri 25 punti partita totalmente aperta per i due giocatori ambe due possono ribaltare la situazione con la forza delle loro manovre comunque Gideon aveva risolto come ci ricorda il buon Filippo aveva risolto come doppiazione perché si è stressato ha fatto prima risoluzione della carta danno per Damage Sensor Array e poi dopo il Barrow stressandosi ah ecco perché non capivamo giusto io mi scuso per le imperfezioni a volte non mi accorgo di cose ma sono cioè vengo da giornate in cui parto alle 6 arrivo alle 9 di corse e poi commento quindi sono un po' stanco quindi scusatemi se è tanto cappello spesso cappello tanto cappello farò altro nella vita credo un morbido a destra per Asaj Ventress ti perdiamo Mattia grazie Chiara per me ne ci segui azione per Asaj scelta ricordiamo che può fare solo occhio o risolvere il critico in un momento di paura vai vicino al fratello tuo ho capito adesso si sono ricongiunti ah intimidation intimidation ricordiamo che Rimer adesso mettiamo un attimo in grafica può diminuire di 1 i cluster quindi fare i cluster a 0 intimidation gli farebbe non andare all'avversario gli farebbe 3 dadi contro 1 no però non ha il target quindi non può farlo chi lo viene ho fatto una cazzata no però comunque gli sparerà 3 dadi di primaria con intimidation non può solo che i mister scelta la 0 ah è vero ma è bampato zoom un po' lì nel è bampato è bampato è bampato e allora niente perché non ha non ha niente tanto vito cita adesso Ketsukoyo e non è una parolaccia vuole chiarire no 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 signor youtube ci stai ascoltando sì sì no no assolutamente non siamo scureli che succede vuoi fare uno secca ha problemi con il dial ovviamente ok ho fermato secondo il timer apposta perché hanno avuto problemi con il deal coia piccolo Ketsu coia piccolo Ketsu e niente il nostro nostro Gideon vuole rimanere lì dice non voglio andare là sono cattivi non mi fanno giocare al Gideon il Gideone perché hanno hanno fissato la nave dovrebbero no stanno sfissando sfissando e sfissando ma che bello ha schivato ha schivato un asteroide piccino che non si vede che stava andando contro stanno cercando di risolvere il problema e oppla Gideon è fermo non si muove sta provando a fargli fare boost bar qualunque cosa ma la nave è pressoché bloccata no vabbè conviene quasi che ne credono una nuova la mettano lì ma che storia ma è mai successa sta roba no la prima volta che ci capita grazie Chiara è il bello della diretta ma non sarà sicuramente per colpa mia se è successa sta roba no tranquilla è perché ho pronunciato meglio il suo nome prima nome di chi di Gideon Gideon Mengia sei proprio tu Gideon Mengia Gideon tu insultaste la mia famiglia Moter e Mango fermo lì le scarpe le scarpe di cemento ti feci fermo stai si è mangiato troppi cannoli e non si muove più no raga ma pazzesco è questo per colpa di una roccia no è per colpa del TTS del TTS si sarà disallineato il dial con tanto Vito dice una brutta situazione una bratta situazione l'era bratta qua però chiara dovremmo fare un video ti ricordi it's spritz time la pubblicità it's spritz time ok devi dire it's bratta time it's bratta time e cosa c'è a posto dello spritz cosa devo fare a posto dello spritz e delle mannavette in mano ah certo e le schianti una contro l'altro poi le lanci it's spritz time sbratta time come ti ho detto malissimo con un inglese di mer di cacca sbratta sbratta non è inglese no si sbratta time così un po' beh time ci sta intanto arriva un video sostitutivo hanno chiamato i box e gli hanno dato il muletto come nella vera formula 1 ricordiamo che i muletti sono navi poco usate dai giocatori quindi non saranno performanti tendenzialmente hanno problemi a volte con il motore le gomme non sono quelle adeguate ma ci crediamo ma vabbè ma che situazione raga pazzesco grazie Chiara grazie ecco via eliminata ciao ok ce l'abbiamo fatta riparte il time no dopo aver usato i i box gli dio 2.0 occhio che dopo questo c'è il 2.5 non so se funziona bene e niente ah ah non io piace all'ecoglio do coio coio cerchiamo di vedere un attimo meglio la situazione qua e il fratello qua rischia di abbandonarsi Ketsus va su Rimer e Asage va su fratello but c'è ancora l'utilizzo dell'abilità di Ketsu che ha il trattore e volendo fratello può stressare Ghideone scusatemi Ghideone Rimer direi al tractor per io fratello sto zoomando in modo che potete vederlo meglio visto che ci sono le navi davanti poi gli fa fare un bel sinistro avanti tanto anche stressato non può girarsi perché ricordiamo che in pochi lo sanno ma quando si viene trattorizzati se non si è stressati si può prendere uno stress per girare la nave di 90 gradi fuoco a distanza 1 fratello ha 4 dadi per Ketsu vogliamo modificare ma fa 3 dentro 2 colpiti e un critico è il fratello doppio evange ragazzi si difende bene prossimo turno ha ionizzato però visible power regulator vege 2 che succede? tra dentro grazie alla forza e muore fratello bye bye quinto fratello mi diverto morto con cantatuglie si esatto 126 punti per Benati 95 punti per Ravizza abbastanza 2 punti per Ravizza per portare a casa la partita e qua è andata un po' come quel meme a scuola prendevo gli schiafi ho chiamato il quinto fratello e li abbiamo presi insieme gli schiafi parte Rimer su Ketsu ma era tutta una mossa come diceva Vito all'inizio tutta una manovra una mossa dentro 130 Ravizza 126 Benati si porta in vantaggio Ravizza mamma mia ricordiamo che Asagio ha stressato Ghido Nask ma perché ha tirato solo due da aspetta perché ha due e via ci siamo prossimo turno altro giro altro regalo l'attacco da due dadi era di Rimer ma non era ringiuno da due perché è angolato male quindi facciamo un recap veloce abbiamo un Ghido Nask con una punto vita un Major Rimer con 6 punti vita quindi full e ancora tre cluster su di sé intimidation vi dicendo tra l'altra parte abbiamo un Ketsu Onyu con 5 vite e un Asagio Ventress con 5 vite con al di sopra un damage sensor array quindi può fare solo occhio in più le navi sono si fatte nel senso che nessuno di due è stressata sto parlando dei due shadow caster quindi ve lo possono ancora accogliare quindi è tutto ancora da giocarsi il problema è che per ravizza che Ghido Nask è più stressato non che con un target lock su su di sé dato da Ketsu Onyu qualcuno ha youtube acceso deve abbassare il volume si sente la voce brava grazie chiara grazie grazie basta puttana la live grazie a chiara grazie chiara asaggio fa una secca destra cercando ovviamente gideon visto che ha solo una vita il quale fa una due secca per destressarsi ma comunque rimane stressato e si porta comunque in fuoco da asaggio la quale volendo può ancora di nuovo destressarlo poi io da parte di morto per morto sarei andato dritto in modo da farlo provare a farlo un fuoco in modo sparo dici forse stressare rimare il quale viene stressato fuoco a uno su gideon ah scusatemi tractor su gideon il quale verrà spazio ah lo prende eh va sul sasso e morirà così non glielo premette ovviamente il tractor perché dice guarda c'è il sasso non puoi perché ecco le nuove regole mg grazie mg speriamo che non lo faccia ma non ne parleremo questo tema non ne parleremo mai aggiungerei che è meglio 4A di contro 2 ma contro 3 ah perché c'è sasso in mezzo è vero ma non lo sposta non ha scelto di non spostarlo un critico reroll 2 colpiti un critico toglie il target da lì difende 2 perché non c'è il sasso a quanto pare niente gideon ci saluta 151 punti per benna e 180 punti per ravizzare ravizzare poter recuperare la partita deve riuscire a finire una delle due navi le quali sono a 2 ancora 5 punti ferita senza essere fatti smezza il rimmer asaj tira forte tira due colpiti di mano rimmer tira il dado e subisce un danno primo dei suoi 6 scafi perso risponde tsuketsu direi 2 dadi contro 2 dadi 2 tigri contro 2 tigri ma povera stesa davanti a 2 giganti hit crit hit crit occhi evade ah no non ha venuto andare su asaj ha speso occhi asaj non l'avrei fatto su asaj io sinceramente no anche perché costa meno quindi e anche hate oltretutto volendo ma 2 stress anche lui ah perché gli ha dato poco fa asaj 6 minuti 2 turni volendo anche 3 segniamo al time a 2 1 2 1 2 2 2 2 2 secca per Asajj sempre col cannone con la torretta laterale all'alto resta per guardare il centro scusatemi Riemer che cerca di di estressarsi con la 2 morbida verso sinistra vorrà puntare i punti a casa più che può 3 secca mossona a girasasso per Ketsu muovere la torretta si in cerco ovviamente di Riemer anche perché sono gli ultimi 5 danni che possono portare alla vittoria 200 a 130 e se è un torneo importante anche perché ricordiamo che sono 46 giocatori faremo la top 16 quindi con un quindi con i 3-1 si passa attenzione non so se tutti ma hai già fatto due conti Matti ha fatto ha fatto i conti ma Grandis ha fatto tutto io mi sono solo ok lui ha impostato tutto io ho continuato cosa possono venire fuori magari 3-4-0 dentro non lo so adesso poi cerco la ok fa un danno grazie all'occhio e un danno entra smezzato 136 punti per Bennati 130 per ravizza anche volendo deve fare 47 punti no non ce la fa a prescindere deve ma no purtroppo ultimi 3 minuti ultimi 3 minuti vi dico come avevo impostato Grandis top top non lo trovo lo trovo non lo trovo troppo vabbè comunque occhio più o meno più o meno così ci saranno un 3 massimo 4-4-0 credo forse 4 sono fin troppi e poi una sfilza di 3-1 credo si 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 con top 16 può darsi che passino anche qualche i primissimi migliori 2-2 si in teoria si c'è 1-2-2-2 quindi concettualmente tutti sono in gioco a meno che non ne perdano 3 e sto fatto un po' apposta per ridurre i tempi nel senso che almeno mi ho fatto 4 settimane invece di 5 ma nel contempo diamo la possibilità un po' più o meno a tutti di giocare bello bello è probabile che l'ultima settimana andremo a vedere quelli che hanno perso di più in modo da poter streammare tutti impossibile e cosa si vince alla fine di questo percorso una solita grandissima pacca sulla spalla si sono data con affetto un pacco sulla spalla un pacco sulla spalla hit crit con un power disable lo ionizza un minuto alla fine rimbal dovrà ionizzarsi andare avanti di 1 intanto facciamo un po' recap del torneo visto che ci siamo allora andiamo a vedere i round per ora hanno giocato possenti marasca vince possenti 125 104 nocera max clerg vince max 253 brunero contro mariani l'abbiamo vista ieri 200 mariani 59 brunero tommaso los contro iuri sinigallia vince iuri sinigallia 297 zanco contro vito vavalle vince zanco 143 a punti a 29 grandis contro rocicero vince nel rocicero 295 alessandro de buono verso davide carlaccini vince carlaccini 101 a 84 luca d'alba contro bacchetta vince bacchetta 151 a 131 parte esotti contro gargiulo 282 per parte esotti andiamo a stare più in basso con cima a 223 punti contro turchetti a 200 punti mazzi e batte l'abbiamo vista 200 mazzi stanno tre babbate danivest e silian 119 ma contro dioguardi che fa 200 punti descordilli contro serain descofar 200 sarà in 0 ultimo ma non ultimo 0 per to 0 per poppy 200 per tocchi abbiamo un sacco di gente che vince 200 punti ragazzi in sto torneo boom boom mamma mia picchiate forte accannonate accannonate nei denti proprio rimarci che è fino all'ultimo secondo comunque non sono tanto i punti alla fine che come me si sta ritirando guarda che c'è dal tavolo non può fare anche qualunque manovra fa fuori vince grande danio vince ben nati 200 a 130 ce la posso fare allora sono sono al tavolo 200 a 130 ok finisce così la partita vince il buon ben nati 200 a 130 per ravizza domani andremo live con una partita importantissima di Tommaso Landiri contro Federico Valenza conoscete il sogno Federico Valenza voi sapete chi è? così dimostrerò le mie non abilità indiretta e il perché della mia presenza in camminare e domani dobbiamo essere il commento io e Chiara in teoria giusto? si spariamo proprio a fuoco su Federico mi raccomando mi raccomando Clemenza mi raccomando sì sì assolutamente Clemenza sì sì si scusi guarda che se l'è segnata se l'è segnata se l'è segnata se occhio ho una buona memoria tanto dicono si vince una patta sulla spalla virtuale si vince una spalla sulla patta virtuale lì poi stiamo andando al delirio in chat comunque vi salutiamo vi ringraziamo sempre per essere presenti ci scusiamo se ogni tanto siamo un attimo persi nel commento e perdiamo qualche pezzo ma anche noi siamo umani e nella vita purtroppo abbiamo modo agli altri di riflettere comunque brava teniamo la chat viva e attenta e purtroppo anche noi purtroppo dobbiamo lavorare per vivere perché ci purtroppo è una brutta storia questa io ebbi un cliente quando avevo il locale che diceva sempre il problema grosso è la prima volta che incominci a pagare è come l'eroina non smetterei mai più e dopo che hai incominciato a pagare dovrai incominciare anche a lavorare è una droga che chiamo un'altra droga esatto cazzo un genio ed è una che sostiene l'altra non ne esci più non ne esci più un filosofo dei nostri tempi diciamo signori vi salutiamo ringrazio Federico per sesto presente ringrazio Chiara ciao a tutti grazie a tutti voi della chat ciao a tutti